Vai, ma non cade. No, di cadere no. Eh, ma vai, anche per andare indietro per difendermi, per andare avanti. Ok, ok, aspetta, fammi stringere. Però se sono qua... Non mi dà fastidio. Nuda, nuda, nuda. Oh yeah, baby, così ciò, we like it. Mama likes. Allora, qua uno mi spinta un spintone, io vado, ma non, non, non cado. Ok, ok. Fondamentale. Ok. Seconda cosa, che nessuno mi ascolta mai. Vai, spara. Attacca, collo, attacca, prende la colla, attacca. Metti una qua e metti una qui. Sempre, per qualsiasi momento, deve tenere così. Non me, perché do un calcio, è facile a persona fare così, per dare impulso. Certo. Mai. Questo vuol dire che quando ho un calcio qua, lui viene qua la faccia e mi dà... E quindi queste dove dovrebbero stare? Qui? Taccato. Qui? Sì, sempre. Proprio su, proprio difendendo dove normalmente li ti colpiscono, qua, apri il guanto, ti fai ok? Certo, chiaro. Sempre, sempre. Io questo lo faccio sempre col caschetto e quindi... Eh, infatti. Eh, non lo tengo.